Ieri vi ho lasciato con questa domanda. Io sto custodendo la luce di Dio che è in me oppure la trascuro del tutto? Occorre ricordare che trascurare la luce di Dio in noi, gettarla alle ortiche, ignorarla, è pericoloso perché getta noi stessi nelle tenebre, così come viene sottolineato nella prima lettura, in particolare in questo passaggio. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre hanno ceccato i suoi occhi. Non so se vi è mai accaduto di guidare nella nebbia, non vedi nulla, luoghi anche che conosci bene ti sembrano diversi, irriconoscibili, perdi punti di riferimento, tutto è confuso, incerto. Ecco la stessa identica cosa accade quando noi non ci sintonizziamo con la luce interiore di Dio che è in noi. Ci condanniamo da soli al buio, all'oscurità, al grigiore, alla nebbia e questo ci porta a guardare in modo distorto gli altri le scelte, le vicende che viviamo. Nella lettura c'è questa bella frase di Giovanni Apostolo «Le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera». Ecco il Natale ci ricorda che in ognuno di noi vi è una luce divina diversa da tutte le altre, eterna, che mai si consuma e sostando davanti ad essa avvertiamo che non siamo mai soli, mai smarriti, mai vuoti. È una luce che è in grado di diradare ogni tipo di tenebra, di nebbia, di accompagnarci dentro ad ogni buio esistenziale per non farci mai sentire soli smarriti. Eppure, eppure, molte volte noi preferiamo la nebbia e così tutto diventa complicato, ci complichiamo la vita da soli. Dio viene per aiutarci e noi ci complichiamo la vita. Siamo proprio strani. Dio viene come luce a rischiarare le nostre tenebre e noi spesso preferiamo le tenebre. Buona giornata.